Siamo con Simone Cusati del Real Tuscolano, una partita che oggi vi ha visto vincere per 6 a 1 contro l'Onais Soccer. Che cosa ci dici riguardo la partita? Molto bravi, potevamo fare meglio, però abbiamo vinto lo stesso. Perfetto, invece qualcosa riguardo i tornei giovanili dell'ICS che cosa ci vuoi dire? Sono piaciuti? Sì. Stai diventando? Sì. Perfetto, allora grazie mille e un grazie in bocca al l'uomo. Sì.